Cosa ti senti di dire ai tuoi tifosi, Francesco? Non lo dire, ti prego. Mi ringraziamo sempre perché loro sono sempre vicini a noi, anche nei momenti più difficili. Questo per noi è un momento difficile, però cerchiamo di voltare pagina e pensare al presente. Cerchiamo di fare veramente una grande Roma perché questi tifosi lo meritano veramente. Più che pazzesco è un gol importante, è importante che ci ha dato i tre punti, poi fare gol al buffone non è semplice. Però quello che conta è la fine del campionato, non è andato come volevamo. Però, come ho detto prima, adesso inizia un nuovo campionato e sicuramente dovremmo dimostrare di essere veramente una grande squadra.